222.2 e Stefani Pilz 223, è una nostra vecchia conoscenza perché ha già calcato le strade d'Italia che pedala Valeria Pintos 224, il cognome e il nome più lungo del giro Eccolo qua, Alissia Claudia Reynoso Pueio Prendete nota, prendete nota 225, sarà italiana, sarà argentina, non si sa, Antonella Leonardi 226, mi sono sbagliato perché il nome e il cognome più lungo è il suo Paola Anna Muñoz Grandonna E allora un applauso solo ma per tutta questa formazione la XI Raias E San Luis dall'Argentina All'Italia È una bella emozione, è una bella emozione correre il giro Paolo Insomma, queste ragazze che fanno tante attività in Sud America Misurarsi, qui ci vuole un selfie È assolutamente, assolutamente comprensibile l'emozione di calcare questo parco Ne hanno già fatti 65 a Bordo Parco mentre aspettavano Grazie ragazzi, un bel applauso Ovviamente buona gara, buon giro Arrivederci per questi dieci giorni Loro capiscono perfettamente l'italiano Quindi non ci sono problemi Che bello, vai Paolo Grazie Grazie ad Alberto Rigamotti Io do soltanto quel tempo vitale alle ragazze